Musica Eccoci all'appuntamento canonico di Motori nel Cuore che ogni anno si registra a Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa un appuntamento importantissimo non solo a livello locale ma addirittura a livello nazionale Musica Pisa Fontarin, mia compagna, noi gli speriamo di passare un bellissimo giorno di madre il tempo è meraviglioso, gli amici anche, noi ci rispettiamo sicuramente Buongiorno, Modello e Auso della madre Renault 19,16 Paolo di 1991 Buongiorno, Modello e Auso dell'Auto La Nissan GTR 2011 Buongiorno, Modello e Auso dell'Auto Buongiorno, Modello e Auso della macchina Audi GT 1986 Equipaggio Equipaggio Vita Musano Buongiorno, Modello e Anno della macchina Ford Escort RS Turbo 1987 Equipaggio Morani Giacomo Buongiorno, Modello e Anno della macchina Citroen Saxo del 2000 Equipaggio In guanti Giuseppe Buongiorno, Modello e Auso della macchina Buongiorno, Modello e Auso della macchina Una 124 Sport 1008 del 1974 Paggio formato da? Stefano Iuri Una buongiorno, una macchina incredibile L'anno di nascita 1929 Tipo della macchina? Lancia Lambda, non la serie Equipaggio formato da? Da Massimiliano Pignotti E Rinaldi David Bocca al lupo Grazie Buongiorno, Modello e Anno della macchina Peugeot 100 Sarelli 1300 del 1995 Equipaggio Nonetti lettieri Buongiorno, Modello e Anno della macchina Punto Sporting del 1999 Equipaggio formato? Da Roberto Bucci e Daniele Venturi Bocca al lupo Buongiorno, Modello e Anno della macchina 1999, Citroen Saxo Equipaggio formato? Non senti chiaro, Franchi Giovanni Gabriele e Daniele Bocca al lupo Buongiorno, Modello e Anno della macchina Panda 100 HP Anno 2006 L'Equipaggio è formato da? Pacini Massimo E Gabriele Bucci Bocca al lupo Un'altra macchina incredibile Anno e Modello Modello A Torpedo L'Equipaggio è formato da? Calvani Sabatino Bulleri Bulleri Laura Bocca al lupo Buongiorno, Modello e Anno della macchina 2006 e la Notus Elisa E l'Equipaggio è formato? Da Luca e Antonella e anche Otto Super Otto Mi sembra giusto Buongiorno, Modello e Anno della macchina È un'Alfetta CTV del 78, 2000 Equipaggio formato? Emiliano e Claudio Bocca al lupo Buongiorno, il tipo della macchina è l'anno Lancia d'elta evoluzione 1992 Bocca al lupo Cipaggio è formato da? Marinale Alessio Madrigale Alessio Non lo so L'ho acquistato Comunque in bocca al lupo Buongiorno, il tipo è Anno della macchina 3.05 Turbo del 1988 Guidata da? Federico Grassini Buongiorno, il tipo è Anno della macchina Una macchina che credo vi abbia fatto sognare Lancia d'elta evoluzione Anno 92 Evo 1 E il tipo è formato da? Gerardo Capuso Montagnani Franco E Sabrina Bolsetti Bocca al lupo Buongiorno, altra macchina tipi Il mio nome è l'anno? Questa è una Porsche Targa del 76 E' la Porsche numero 1 Mi ha fatto sognare tante persone Tante persone, me compreso Fin da ragazzo E il tipo è formato da? Mauro Gradi e Federico E Federico Grazie Buongiorno, il tipo è Anno della macchina? Il tipo è integrale 16 valvole del 90 Una macchina che ha fatto sognare tanta gente Anche ora la fa sognare tanta gente E il pipaggio è formato da? Bonelli Maurizio e Corti Alessandro E i nipoti donati In bocca al lupo Buongiorno, non avrebbe bisogno di presentazioni Però il tipo è l'anno della macchina 1992 lancia Delta Evoluzione E l'equipaggio è formato? Due lucchesi Moriconi e mio figlio Moriconi In bocca al lupo Buongiorno, il tipo è l'anno della macchina? Chevrolet Corvette 1987 Il pipaggio è formato da? Materlini Lorenzo e Giulia In bocca al lupo Buongiorno, l'anno è il tipo della macchina? La macchina A75 2000 Twin Spark Preparata è l'anno 89 L'equipaggio è formato? Da padre e figli Tipo è l'anno della macchina? 75.006 carburatori 1989 Macchina che non avrebbe bisogno di presentazioni però E l'equipaggio? Bene Buongiorno, il tipo è l'anno della macchina? 72 Tipo? 124 Spyder 4 carburatori Condotto da? Da Casino Salvatore Buongiorno, il tipo è l'anno della macchina? Ford Mustang 2015 La Mustang che fa sognare ancora Eh sì, è il bifo americano che fa ormai in tutto il mondo E l'equipaggio? L'equipaggio è moglie e due figli Live Grazie a tutti Grazie a tutti.